Ci sono personale dell'ONU, quindi tutto sotto controllo, regolare, controllato. Ogni stanza ha la capienza di per quattro persone, c'è un frigorifero, abietto. Quindi non ci può dire che siano campi di prigionia o di tortura, insomma c'è anche il personale dell'ONU. Però è una fase temporanea? Sì, dovrebbe essere un punto di transito per poi riaccompagnare, identificare e allontanare. Sì, quindi il fatto di chi desidera rinforzare valutamente o dei paesi tersi che si assumono la loro parte. Alla capienza di mille migranti. Poi c'è la riammissione in Niger e poi dal Niger teoricamente nei paesi di partenza. Però anche su questo l'Europa dorme. Quindi tutti quelli che dicono che in Libia non si possono riaccompagnare gli immigrati raccolti in mare perché vengono torturati o serviziati, hanno in questo campo gestito col controllo dell'ONU la risposta. In alcune situazioni non c'è una realtà del genere. Tra l'altro è vicinissimo al palazzo del governo. L'invita a rimanere a fermarsi in Libia. Gli ha messo a disposizione tutti i vantaggi e i privilegi. Rimpatri in un periodo che non va oltre a tre mesi dal loro ingresso. Anzi addirittura sta dicendo due settimane. Quindi come dicevo la parte di accoglienza è relativa alla parte importante. È lo smistamento e il rimpatrio volontario su cui l'Europa deve metterci. la parte di accoglienza. in questo luogo perché è nel cuore della capitale e questo è una cosa che potrebbe causarci dei problemi. Noi desideriamo che questi centri di accoglienza vengono fatti al sud della Libia, non qui. l'immigrante viene accolto. Gli fanno la visita sanitaria. Per esempio per vedere se ci sono accade di tubercolosi o altro per verificare. Dopodiché viene posto in quarantena. L'obiettivo poi è quello di avere un canale di identificazione per coloro che hanno diritto di venire in Europa come rifugiati e per coloro che invece devono essere bloccati. ci sono cose che potrebbero essere bloccati al luogo siace o altro. Questa è la prima fase per l'identificazione. E qui. Questa è la prima fase per l'interno di 500 poliziotti. Per più c'è una parte riservata alle donne vulnerabili. Naturalmente per quanto riguarda le donne saranno a cura di rispettive donne. e quindi il servizio è che fino ad oggi 8.628 migranti illegali. L'ultima statistica è arrivata, ci è giunta oggi dalla Guardia di Cosseria del Qoms 361 persone. E hanno chiuso i centri problematiche e stanno concentrando i migranti nei centri moderni. Notiamo che c'è un altro problema, che il numero, le cifre che ha appena pronunciato il signor Muhammad sono numeri presso i centri di accoglienza. Ma poi i numeri sono molto ancora più grandi all'esterno, che sono in attesa di emigrazione. Certo.